Io do subito il benvenuto al professor Marcello Ciaccio, benvenuto professore, io ricordo è un'eccellenza della nostra medicina, tante ricerche importanti derivano proprio dall'ambulatorio e dal reparto del nostro professore, che io ricordo è il direttore del Dipartimento dell'Unità di Medicina e Laboratorio del Policlinico Giacone di Palermo e presidente anche della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo. Allora, questo è il mese professore dedicato alla salute del nostro intestino, io dico è brutto, è vero di prevenzione del tumore al colon retto, perché sicuramente è uno dei tumori più diffusi per noi donne subito dopo il tumore del seno e oggi vogliamo dedicare proprio alla salute del nostro microbiota, perché voi lo state studiando tanti anni e la ricerca si sta sempre più, come dire, concentrando su questo organo fondamentale per tutto l'organismo. Allora, vogliamo capire esattamente che cos'è il microbiota, si parla molto di microbiota e quali sono le sue funzioni, professore? Il microbiota è l'insieme di microorganismi, soprattutto batteri, ma anche funghi, protodoie, che albergano e convivono nel nostro organismo, soprattutto a livello intestinale, il 70%, ma anche in altri distretti corporei, il derma, nei capelli, nella cavità orbitaria, a livello genitale, soprattutto a livello vaginale, e che costituisce un vero e proprio organo del peso di circa un chilo, che svolge le funzioni molto importanti nel mantenere lo stato di buona salute del nostro organismo. Esatto, stiamo leggendo tante sono le funzioni. Sì, tante sono le funzioni, elimina sostanze tossiche, favorisce l'assorbimento dei nutrienti, promuove che il sistema vascolare si mantenga in buona salute, promuove la sintesi di molecole che sono essenziali, come alcune vitamine del gruppo B, la vitamina K, l'acido folico, contribuisce alla motilità della peristalsi intestinale, modula il sistema immunitario, facendolo sempre più efficace, quindi pronto a rispondere agli insulti che possono provenire dall'esterno. Però questa popolazione di microorganismi è una popolazione molto variegata, perché esistono i microorganismi cosiddetti buoni e i microorganismi dannosi, e quindi è l'equilibrio importante, importante è mantenere questo equilibrio tra microorganismi buoni e microorganismi dannosi. Se questo equilibrio si altera e prevalgono i microorganismi dannosi, si crea quello che noi chiamiamo stato di disbiosi, che poi può provare tutta una serie di conseguenze e di patologie. Ecco, è proprio qui, perché io ho detto all'inizio, appunto, voi ricercatori vi state concentrando su quest'organo fondamentale per il nostro benessere. Infatti un intestino, un microbiota alterato è collegato anche a tante diverse patologie che noi non ci pensiamo proprio. Assolutamente sì. Quali sono queste patologie? Non solo patologie del tratto gastrointestinale, ma anche patologie per organi che sembrerebbero non collegati all'apparato gastrointestinale. ad esempio il sistema nervoso centrale, c'è un asse cervello-intestino che se non ben regolato e il microbiota contribuisce a questa regolazione, se si perde questo equilibrio, allora c'è tutta una serie di messaggi che dall'intestino arrivano al sistema nervoso centrale che sono alterati e sono dannosi. E quindi molte patologie del sistema nervoso centrale, alcune demenze, la malattia di Alzheimer, l'epilessia, il morbo di Parkinson, l'ictus, vengono studiati e si è visto che c'è una correlazione, una causa, una concausa del microbiota alterato su queste patologie. C'è anche, ovviamente ci sono una delle cause, poi parleremo anche di questo, anche una dieta sbagliata, un'alimentazione scorretta, ne parleremo esattamente, altre cause che possono portare ad un microbiota alterato? Perché noi oggi vogliamo fare prevenzione, vogliamo dare tanti consigli. Tra le cause più importanti, oltre ad un'alimentazione errata, chiaramente l'uso inappropriato di alcuni farmaci, prima di tutti gli antibiotici, che non solo sono quella che è una pandemia che temiamo, che è l'antibiotico resistenza, ma l'uso inappropriato di antibiotici crea questa disbiosi, cioè altera il normale equilibrio tra microrganismi buoni e microrganismi dannosi. Non solo gli antibiotici, i cortisonici, l'uso anche prolungato, inappropriato degli inibitori della pompa protonica, i cosiddetti antiacidi, Tutte queste sono chiaramente condizioni che alterano questo equilibrio e quindi comportano tutte quelle conseguenze legate a questo alterato equilibrio a livello intestinale. Prima di affrontare il tema esami, gli esami per valutare esattamente come sta il nostro microbiota, perché ci sono delle novità, e questo è importante, perché come io ho detto la ricerca sta andando molto avanti nello studio proprio del nostro intestino, vorrei parlare dell'uso, lei ha accennato appunto all'uso smodato degli antibiotici, allora i probiotici possono aiutarci, ci vuole chiarire una volta per tutte, perché c'è anche tanta confusione, la differenza tra probiotici e fermenti lattici? Sì, i probiotici sono utili chiaramente, perché instaurano nuovamente un equilibrio a livello di questi microrganismi che è stato alterato. Quindi dopo una terapia, ad esempio con antibiotici, un antibiotico terapia, soprattutto se prolungate, soprattutto di quelli che possono alterare fortemente questo equilibrio, chiaramente i probiotici sono assolutamente indicati. Però l'importanza nella terapia farmacologica è sempre di dare il farmaco giusto al paziente giusto nel momento giusto. Ecco, l'automedicazione spesso può non portare delle conseguenze che possono essere anche di una certa entità. Chiaramente poi il microbiota può essere alterato anche da altre condizioni, il fumo, l'alcol, i superalcolici, lo stress, una vita poco attiva, sono tutte condizioni che possono alterare questo equilibrio, che è un equilibrio individuale. Il microbiota mio è diverso dal microbiota suo, perché questi microrganismi hanno un loro codice genetico e quindi l'insieme dei microorganismi determina il profilo genetico del microbiota che chiaramente è diverso da individuo a individuo. Adesso parliamo di esami. Esami per valutare il nostro stato di salute e il nostro microbiota. Lei ha già parlato un po' di test genetici, perché il mio microbiota è diverso dal suo professore. Allora, come si fa a fare una diagnosi corretta della salute del nostro microbiota? Più che una diagnosi, una fotografia di quello che è il nostro microbiota intestinale. Tramite la profilazione genica, tramite le tecniche di profilazione genica, quello che noi facciamo quando facciamo il genoma dell'individuo, facciamo il genoma del microbiota. Infatti noi siamo entrati nel nostro delegame, professore, io la interrompo, mi scusi, proprio per vedere all'interno del suo laboratorio come vengono fatti questi test, che cosa sono esattamente. Praticamente su un materiale fecale si prende e si analizza i microrganismi che sono contenuti in un campione di feci e si vede il pattergenico e quindi si stabilisce qual è la componente di microrganismi buoni e la componente di microrganismi dannosi. E quindi possiamo dire se il microbiota in quel campione di feci è in uno stato di equilibrio, quindi di eubiosi, o se è alterato e quindi si è in una situazione che è da correggere. E sono dei test a livello preventivo? Sì, sono dei test chiaramente che non sono test di screening, non sono test che si fanno a tutti, sono test che prima di tutto sono ancora in una fase di ricerca e di sperimentazione e quindi l'utilizzo, diciamo, rutinario ancora non è una situazione di oggi, probabilmente lo potrà diventare in un futuro e va fatto in casi chiaramente selezionati, ad esempio in pazienti che hanno una familiarità per malattie gastrointestinali gravi, malattie infiammatorie croniche dell'intestino, crondo, retocolite ulcerosa, in soggetti ad esempio in gravidanza che sono particolarmente a rischio durante l'adolescenza, oppure negli sportivi che necessitano di una dieta equilibrata per una maggiore performance delle loro attività, allora stabilire qual è il microbiota ottimale per loro singolarmente, torniamo qui a parlare di medicina di precisione, anche qui medicina di precisione è personalizzata, il microbiota del singolo individuo. Allora parliamo di prevenzione, abbiamo capito che questi test genetici ancora non sono fruibili dalla massa, da tutti purtroppo, prima o poi ci arriveremo, io immagino sicuramente perché sta... Esatto, lo speriamo davvero, però allora che cosa possiamo fare per prevenire tutta questa alterazione del nostro intestino, perché da quello che ci scrive i nostri telespettatori, che ci seguono sempre con tanta passione, soprattutto quando parliamo di problemi intestinali, ebbè è proprio questo, cosa si può fare, cosa dobbiamo fare? Allora, prima di tutto un'alimentazione sana ed equilibrata, alimentazione sana ed equilibrata significa significa nutrirsi principalmente, anche se non esclusivamente, di frutta, di verdura, di fibre, eliminare o diminuire le carni, limitarle a una volta alla settimana, non più eliminare i superalcolici, eliminare anche tutto ciò che è preconfezionato, perché vi sono conservanti, coloranti, e questi sono tutti i fattori che possono alterare il nostro microbiota, quindi prima di tutto una dieta sana ed equilibrata. Poi chiaramente, come dicevamo prima, i farmaci in maniera molto appropriata, soprattutto gli antibiotici, quando sono necessari, saperli usare, saperli dosare, e poi eventualmente fare una terapia integrativa con probiotici che possono reintegrare il microbiota. I famosi batteri buoni. I famosi batteri buoni. La flora batterica. Esatto, la flora batterica. Che noi conosciamo? Quali sono i batteri buoni, quelli che invece sono cosiddetti dannosi. Dannosi. Alcuni sono particolarmente dannosi, quindi se si crea questo disequilibrio e c'è questa prevalenza, logicamente le alterazioni che ne conseguono sono non solo più frequenti, ma anche di maggiore gravità. Allora, io, Paolo Giacone di Palermo, è un centro d'eccellenza, il Policlinico, proprio per tanti disturbi, tra cui i disturbi intestinali. Voi state sperimentando una nuova terapia per ripristinare, per far tornare in salute il microbiota. Ce ne vuole parlare, professore? Sì, noi ancora non la stiamo facendo, stiamo studiando per poterla effettuare, che è il trapianto fecale. Il trapianto fecale che è ancora in fase di sperimentazione, se non qui in Italia, ed è l'unica nazione tra le nazioni della comunità europea ad averlo già approvato, il trapianto fecale per le infezioni da Clostridium difficile, che è un batterio gran positivo, che dà una patologia intestinale che può essere anche molto grave, la curita è pseudomembranosa, e che può essere resistente alla terapia con l'antibiotici. In questo caso è già stato approvato il trapianto fecale. Il trapianto fecale che consiste nel prendere campioni di feci da donatore, il cui microbiota è in equilibrio, quindi è in una situazione perfetta, e o introdurlo nel ricevente per via coloscopica, oppure tramite una capsula che viene ingerita e che poi esplica i suoi effetti a livello gastrointestinale. Lei ha detto che sono specifiche le persone al momento, in fase di sperimentazione, solamente per pazienti molto selezionati in questo momento. Però qual è l'obiettivo futuro? Quali sono i pazienti che potranno ricevere questo tipo di trattamento? L'obiettivo è, e si sta studiando questo, di darlo ad esempio non solo ai soggetti che hanno una patologia gastrointestinale, ma ad esempio anche ai pazienti oncologici, ai pazienti che fanno una terapia chemio o immunoterapia, perché si è visto che questi soggetti hanno in grande percentuale un'alterazione del microbiota, quindi in uno stato di disbiosi, e si è visto che se si corregge il microbiota non solo la terapia è più efficace, ma anche gli effetti collaterali da queste terapie sono molto minori, quindi sicuramente nei pazienti oncologici. Ma oggi viene studiata anche in tutto una serie di pazienti affetti di malattie metaboliche, diabete, sindrome metabolica, e quindi credo che le prospettive terapeutiche in relazione a quelle che sono i rapporti tra microbiota in equilibrio e patologie credo che sono prospettive molto rose. Grazie, grazie per tutto quello che fate, grazie a professore Ciaccio, un'eccellenza, davvero anche il Sud, finalmente, sappiamo ce ne sono delle eccellenze, non è vero mai, mai denigrarlo, perché in questo caso il Polichinico Giacchone è davvero un'eccellenza del nostro paese. Grazie di cuore, buona Pasqua, auguri.